Allora, questo tipo di convertitore si chiama CHUK, dal nome dell'ingegnere che ha proposto la configurazione circuitale. È un convertitore che si basa su un grande condensatore e due induttori. Lo schema vediamo insieme, lo schema di principio. C'è un interruttore solo, un condensatore che deve essere grande, in modo tale che praticamente la tensione sui capi sia costante, e due induttori. Questo secondo condensatore serve semplicemente per filtrare ulteriormente il ripple. La caratteristica del convertitore CHUK è di fornire in uscita una tensione di polarità opposta a quella di ingresso. In pratica noi abbiamo già visto un altro schema di convertitore che ha quella funzione, che era il back-boost. In realtà questa è una specie di boost-back, cioè inverte i due schemi per ottenere più o meno la stessa cosa, poterci dare in uscita una tensione di polarità opposta a quella di ingresso. Allora, vediamo com'è che funziona. Si vede abbastanza bene, quando l'interruttore è chiuso abbiamo l'induttanza che si energizza, si carica, come si vede qua, perché ai capi di L1 è applicata la tensione di ingresso, Vd, e contemporaneamente il carico in uscita viene alimentato dalla capacità per questa via. Quindi la capacità è carica così, quando l'interruttore è chiuso la capacità si scarica sul carico R. Durante invece la simionda che vede S aperto, a quel punto cosa succede? Che l'induttanza ha qua una sovrattenzione, come in un classico boost, e spinge corrente nella capacità caricandola. Quindi la capacità si carica con energia fornita dal generatore di ingresso e dall'induttanza L1. D'accordo? Quindi durante la fase in cui S è off, questo è quello che succede. A questo punto, scusate, questo si vede meglio, qui il diodo conduce, vedete in questa fase il diodo conduce così. Il diodo conduce quando S è off, nell'altra fase che dicevo prima il diodo non conduce, perché è applicata al diodo la tensione sulla capacità con polarità negativa, quindi il diodo è interdetto. Allora, vediamo un po', per vedere bene il funzionamento, alcuni grafici sincronizzati di corrente e tensione. Prendiamo soltanto un periodo, diciamo che questo è T, questo è il periodo, questa è la tensione ai capi dell'induttore, L1, la tensione sarà alta durante una semionda, questo sarà T on, anzi lo scrivo sotto, questo è T on, questo è T off, T on è il duty cycle per T. Durante questa semionda chiaramente l'induttanza si carica, io non sto a indicare tutto, ma insomma VL1 è la tensione ai capi dell'induttore e IL1 è questa corrente qua. Allora, chiaramente abbiamo a regime questa situazione, T on è, durante T on la tensione sull'induttore è alta, quindi la corrente nell'induttore cresce, d'accordo, con una derivata che sarà VL1 diviso L, d'accordo? Durante la semionda successiva, per forza di cose, avremo che la corrente, se questa è la situazione che abbiamo a regime, la corrente percorre il percorso inverso, quindi decresce e torna alla situazione iniziale perché poi ci sarà la ripetizione del periodo. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che durante questa semionda la tensione ai capi di L1 è negativa perché quando l'interruttore è aperto la capacità è carica a tensione maggiore di VD. Quindi qui abbiamo una tensione negativa. Se questa qua la chiamiamo VO, vedete, dobbiamo avere in continua che VD, questa la chiamiamo VC, VC è uguale a VD più VO, con VO presa con questo segno. Ho scritto l'equazione alla maglia più esterna, soltanto per la componente continua, poiché VC presa con questo segno, vedete, se prendo solo la componente continua, la caduta sull'induttanza è nulla, in continua, e quindi mi viene VC uguale a VD più VO, dove VO è presa con questo segno, cioè inversa. D'accordo? VC, per quello che vi ho detto, deve essere più grande di VD, e quindi VO è minore di zero. D'accordo? Quindi questo è l'andamento su la prima. Vediamo invece sulla seconda induttanza cos'è che succede. vediamo l'attenzione e la corrente sulla seconda induttanza, sempre per la stessa semionda. Dunque, questa attenzione qui è VD meno VO, VD meno, scusate, VD meno VC, che è uguale a meno VO. D'accordo? Perché nel tempo in cui l'interruttore è aperto, abbiamo detto che il diodo conduce, trascuriamo la Vγ, e quindi questo nodo è attenzione VC, questo nodo è attenzione VD. quindi l'attenzione sull'induttanza è VD meno VC, che è meno VO. Va bene. Che cosa succede sull'induttanza 2? Abbiamo detto che allora guardate qua guardate questo ramo VC è uguale a VO più VL2, quindi VL2 è uguale a VC meno VO, cioè è uguale a VD durante il durante l'intervallo di tempo durante il quale l'interruttore è chiuso, quindi qui è VD questo vuol dire che la corrente nell'induttore la corrente nell'induttore è questa IL2 durante questa fase cresce e poi avremo invece durante l'altro intervallo che è la tensione durante l'intervallo di tempo durante il quale S è OFF trascuriamo il diodo conduce trascuriamo la Vγ del diodo vedete che la VL2 è meno VO quindi qui andiamo a meno VO questo è l'interruttore e quindi la corrente scende torna a livello iniziale quindi questo è l'andamento della tensione e della corrente sulle due induttanze la capacità si vede abbastanza bene al tipo di approssimazione che abbiamo fatto la capacità deve avere valore tale da poter considerare la tensione ai suoi capi praticamente costante quindi nell'intervallo di tempo TON e TOFF comunque la corrente non è tale da cambiare la tensione sulla capacità questo di fatto si traduce in una condizione sul valore della capacità una condizione minima sul valore della capacità va bene allora è facile vedere che relazione scelta tensione di uscita e tensione di ingresso come vi potete aspettare la relazione dipende dal duty cycle ma si fa il conto facilmente perché la pendenza della corrente in salita è VL1 su L quindi il delta I durante la semionda positiva è VL1 su L che è VL1 è qui VD quindi VD su L per il tempo per il tempo TON questo dovrà essere uguale al tratto percorso in discesa in discesa la tensione applicata è meno VO quindi la pendenza è VO meno VO su L e quindi avrò il delta I che è questo intervallo qui se lo misuro in discesa sarà VO su L per TOFF tutto qua quindi TON e TOFF si semplificano VD per D T sarà uguale a VO per 1 meno D per T e quindi avrò che VO viene uguale a VD per D diviso 1 meno D che è la stessa espressione che avevamo trovato per il backboost D'accordo chiaramente l'inversione dell'attenzione non si vede in questa espressione si vede nel riferimento del segno che ho preso per la VO è già presa con segno invertito diciamo rispetto all'altra soluzione che abbiamo visto insieme il vantaggio di questa soluzione è che la tensione sul carico è un po' più continua diciamo è soggetto a un ripple minore per contro perché la cosa funzioni bene e ci vuole una capacità più grande quindi si paga con una capacità più grande del fatto che la tensione d'uscita è molto più costante chiaramente diciamo magari una cosa che non vediamo in dettaglio adesso anche se si può valutare abbastanza facilmente anche in questo caso per questo tipo di convertitore esiste sia una modalità di funzionamento continuo sia una modalità di funzionamento discontinuo perché vedete la corrente nell'induttanza finché il valore medio è maggiore della metà del ripple siamo in modalità di funzionamento continuo altrimenti si va in modalità di funzionamento discontinuo e valgono le considerazioni che abbiamo fatto per gli altri schemi qui ci interessa meno perché non si usa in modalità discontinuo praticamente mai per il fatto che il vantaggio in modalità di funzionamento discontinuo si perde il vantaggio di avere una tensione di uscita molto più costante quindi alla fine non c'è si perde il vantaggio maggiore quindi alla fine non si usa praticamente mai in modalità di funzionamento discontinuo c'è una condizione che è abbastanza facile da verificare ma questo può essere un esercizio facile da fare quindi non lo vediamo adesso se andate a vedere se volete avere la garanzia che per una certa tensione di uscita per una certa corrente di uscita il chuck funzioni in modalità continua vedete bene basta imporre un valore minimo all'induttanza perché la pendenza è inversamente proporzionale all'induttanza la pendenza della corrente quindi se volete che la corrente vari di meno per avere la garanzia che il funzionamento sia continuo la risposta è basta fare l'induttanza abbastanza grande quanto grande dipende da è facile da calcolare vedete la pendenza è inversamente proporzionale a L quindi anche il ripple sulla corrente sarà inversamente proporzionale a L va bene ecco un altro tipo di convertitore che è importante vedere perché è molto adoperato soprattutto per il pilotaggio di motori è il convertitore full bridge convertitore full bridge è essenzialmente un convertitore a quattro quadranti e questo è il motivo per cui si usa cioè si può quando si dice a quattro quadranti si intende che se metto il punto di lavoro su un piano cartesiano corrente d'uscita tensione d'uscita tutti i quattro quadranti del piano cartesiano possono essere utilizzati quindi si può fornire tensione con un segno o con l'altro e anche la corrente nel carico si può far passare in una direzione o nell'altra quindi si può cedere corrente al carico sul primo e sul terzo quadrante o si può assorbire corrente dal carico sul secondo e sul quarto quadrante questo funziona particolarmente bene nell'alimentazione di motori perché quando si vuole far erogare potenza meccanica al motore si lavora sul primo e sul terzo quadrante quando si vuole usare come freno generatore il motore si lavora sul secondo e sul quarto quindi si assorbe potenza dal motore vediamo com'è che funziona prima di tutto il convertitore in pratica questa supponiamo sia la tensione di ingresso continua non regolata e supponiamo che qua ci sia un carico che tipicamente è un carico induttivo questo carico lo rappresento già così perché è la rappresentazione più generale per un carico che può essere per esempio un motore in continua c'è una componente induttiva forte tipicamente dovuta agli avvolgimenti del motore e poi ci può essere anche una forza elettromotrice indotta che viene generata dal movimento del rotore rispetto allo statore quindi questo è un circuito equivalente è un classico di un motore allora com'è che funziona il convicto del full bridge ci sono quattro gambe questa tensione qua chiamiamo la gamba A ha due interruttori questa qui la chiamiamo VAN la tensione del punto A rispetto a massa ha un interruttore TA più col suo diodo di ricircolo e un interruttore TA meno col suo diodo di ricircolo bene quindi la tensione VAN può andare da VD a 0 diciamo pilotata con l'onda quadra di duty cycle di A va bene come immaginate chiaramente quei due interruttori funzionano in controfase ovviamente quando uno è chiuso l'altro è aperto di solito vengono anche pilotati con un clock che non sia sovrapposto in modo da essere sicuri che non ci sia mai nessun intervallo durante cui sono chiusi tutti e due gli interruttori quindi la tensione VAN è sicuramente VDD o 0 e il valore medio sarà determinato da duty cycle ok quindi noi poniamo per esempio che VAN questo è duty duty cycle leg A cioè della gamba A VAN sarà uguale al duty cycle per VD in continua va bene mettiamolo esplicito mettiamo esplicito istante per istante VAN sarà un'onda quadra e poi ho un'altra gamba che pilota il punto B qui avrò VBN la tensione tra questo nodo è massa questo è il nodo B e avrò anche qui una gamba per il nodo B qui ci sarà un T B più un T B meno chiaramente di nuovo avrò un duty cycle B che pilota la gamba B questo vuol dire che la VBN media sarà uguale al duty cycle di B per VD ok quindi questo chiaramente vuol dire che la tensione applicata al motore VAB avrà un valore medio uguale a VAN meno VBN e quindi sarà uguale a DA meno DB per VD quindi adesso dobbiamo decidere soltanto come diamo il duty cycle e come lo regoliamo però si capisce abbastanza bene che a seconda dei valori che scegliamo per il duty cycle come sapete sono quantità che variano tra 0 e 1 a seconda dei valori che diamo la tensione media sull'uscita può variare da più VDD a meno VDD chiaramente e analogamente non c'è niente che impedisca alla corrente di circolare in tutte e due le direzioni già in pratica se la tensione VAB media è maggiore della forza elettromotrice indotta e A la corrente circola in un senso se è minore circola nell'altro chiaramente non c'è niente che vieti la circolazione in tutte e due le direzioni ci sono diodi che blocchino il percorso il controllo in questi casi si fa con una modulazione PWM c'è una pulse width modulation e ci sono due modalità diverse che vediamo adesso una modalità è la bipolar voltage modulation con la tensione bipolare l'altra modalità è con una tensione unipolare cioè unipolar voltage modulation vediamo in che cosa consiste l'una e l'altra allora in questo caso come si fa si effettua la modulazione confrontando un'onda triangolare con una soglia allora prima vi rappresento questa V3 che sta per V triangular triangolare immaginiamo che sia questa la tensione alla frequenza che sarà pari alla frequenza di commutazione del regolatore quindi questo periodo dell'onda è il tempo di switching periodo di switching e questa tensione viene confrontata con una tensione di controllo chiamiamo questa qua V control e poi la regola che scegliamo è questa se V control è maggiore di V 3 e siamo sotto la linea di V control allora TA più e TB meno sono on va bene quindi questo che cosa vuol dire vuol dire che torniamo un attimo indietro TA più e TB meno vuol dire che V AN è uguale a V D e TB meno on vuol dire che VB è uguale a 0 quindi la V AB è uguale a V D d'accordo quindi questo vuol dire V AN uguale a V D V B N uguale a 0 quindi la differenza è V D quindi se io rappresento qua anche la tensione capi del carico V output è facile il confronto io posso dire bene tranne che in questo piccolo intervallo la condizione è sempre verificata e quindi in questo intervallo qui vale V D e qui vale V D va bene altrimenti sono accesi gli altri interruttori quindi in quest'altro intervallo chiaramente sarà acceso T A meno e TB più quindi stavolta sarà V AN uguale a 0 e VBN uguale a VD quindi la tensione applicata al carico sarà meno VD d'accordo? quindi mi trovo così allora come ricavo con un'espressione semplice la tensione qui è abbastanza facile da vedere però allora guardiamola bene D1 di A cioè il duty cycle di VAN quanto sarà? e in questo caso sarà si vede abbastanza bene in pratica vedete se Vcontrol fosse 0 il duty cycle sarebbe esattamente un mezzo se Vcontrol fosse uguale al picco di V3 sarebbe esattamente chiamiamolo Vmax questo sarebbe esattamente 1 e tra l'uno e l'altro varia linearmente quindi D A sarà uguale a un mezzo più un mezzo Vcontrol diviso Vmax va bene? il duty cycle della della gamba B è complementare perché quando T A più è chiuso T B meno è chiuso e viceversa quindi questo sarà anche uguale a 1 meno di B ok? quindi a questo punto guardiamo un attimo l'espressione di prima VAB medio è DA meno di B per VD me la scrivo di nuovo VO 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 medio che VO è VOB e VO questo è uguale a VOB è uguale a DA meno di B giusto? DA meno di B per VD se vado a fare questa differenza che cosa mi viene? mi viene che di B sarà un mezzo meno questa roba qua faccio la sottrazione un mezzo più un mezzo quindi qui mi viene un V control diviso Vmax per VD quindi vedete in pratica riesco a fare un controllo della tensione d'uscita proporzionale alla V control la V control è una tensione di controllo la tensione in uscita sul carico è proporzionale alla tensione di controllo Vmax è fissa dipende dalla sinusoide VD è la tensione di ingresso in pratica io posso già immaginare come sarà il meccanismo di controllo come più o meno quello che abbiamo in qualunque regolatore lineare o regolatore switch dovrò sondare misurare la tensione di uscita e inserire un anello di reazione che confrontando la tensione di uscita con la tensione di riferimento mi aggiusta V control in modo da effettuare la regolazione va bene chiaramente questo è uno schema di principio nella pratica questa onda triangolare e questa quantità di controllo non devono essere necessariamente segnali analogici possono benissimo essere come dire tre righe in un codice in un microcontrollore che effetta questo tipo di confronto quindi l'onda triangolare può essere un contatore in un microcontrollore e la V control una una variabile con cui diciamo l'uscita del contatore viene controllata allora voi tenete presente la parte di controllo nei casi pratici si fa per lo più con un microcontrollore va bene questo è quindi il PWM con la tensione bipolare e che cosa vuol dire perché si chiama bipolare in questo caso perché vedete la tensione applicata la tensione applicata al motore varia tra più Vd e meno Vd e la Vo è semplicemente il valore medio immaginando che chiaramente il motore filtri via le componenti ad alta frequenza e sia soggetto espressamente diciamo in particolare soltanto alle componenti a frequenza nulla in realtà questo è vero fino a un certo punto nel senso che queste componenti ad alta frequenza tipicamente introducono delle vibrazioni nel motore sono responsabili di vibrazioni perché poi sto applicando non una tensione continua ma una tensione che vale da più Vd a meno Vd se la frequenza è molto alta queste vibrazioni tipicamente le sento poco perché il motore si comporta si comporta come un filtro passavasso però chiaramente sono vibrazioni che in qualche modo si possono sentire l'altra soluzione è leggermente diversa tipicamente ha il vantaggio di introdurre un numero minore di vibrazioni aumenta un po' la complessità ma introduce meno vibrazioni vediamola un attimo è molto simile in pratica che cosa succede dal punto di vista del meccanismo di funzionamento l'effetto è simile aspettate voglio ad operare lo stesso tipo qui l'avevo fatta arrivare fin qui mettiamolo qua ho di nuovo un'onda triangolare la tensione massima la chiamiamo vmax questa qui è una v3 e stavolta la tensione di controllo è fatta da due valori distinti una v control e una meno v control allora ta più è on se la v control è maggiore di v3 quindi come prima qui mi conviene fare separatamente il grafico di vn e vbn vn quindi varia da vd a 0 vd in questo caso 0 altrimenti invece tb viene determinata dall'altra soglia tb più è on se meno v control è maggiore di v3 ok quindi prendo un colore diverso spero che si veda si riesce a vedere comunque abbastanza poi penso uno ha giusto il contrasto automaticamente allora in questa situazione no quindi in pratica in questo intervallo la tensione alta e questa è la vbn che cos'è che cambia guardiamo un attimo per da vale la cosa che abbiamo detto prima non è cambiato niente quindi è un mezzo più un mezzo v control diviso v max per db per db vale più o meno la stessa cosa perché in pratica quando v control è uguale a v max in realtà il duty cycle viene a 0 ed è un mezzo quando invece v control è 0 quindi viene un mezzo meno un mezzo v control diviso v max quindi quando vado a fare la vo che è v a n meno vbn medio mi viene d a meno db e db alla fine anche se ho cambiato il tipo di controllo è uguale a prima per vd e quindi fa v control per v control diviso v max per vd vedete l'espressione è di nuovo uguale a prima ora io non ho disegnato qui ci starebbe bene un altro grafico per farvi vedere ma provo a farlo sullo stesso cambio lo faccio in giallo giallo non si vede niente faccio in rosso vi metto la vo come è fatta la vo guardate dovete fare va meno vb quindi viene fatta in questo modo così non si vede niente ora no ma non posso farlo così non si vede niente prendo un colore prendo questo allora evidenzia soltanto viene fatta così vedete in pratica nello stesso periodo abbiamo due variazioni viene a variare con frequenza doppia abbiamo lo stesso lo stesso valore meglio di prima soltanto che invece di variare da vd a 0 abbiamo una variazione da scusi la richiamo tra un attimo abbiamo una variazione scusa cosa ho detto invece di avere una variazione da più vd a meno vd abbiamo due volte una variazione da vd a 0 quindi il valore medio rimane lo stesso il ripple è a frequenza doppia e quindi più facilmente si riesce ma di ampiezza alla metà e quindi più facilmente si riesce a filtrare via d'accordo quindi si vede abbastanza bene in questo caso la tensione applicata sul carico va solo da vd a 0 se vcontrol diventa negativo la tensione applicata al carico varia da 0 a meno vd quindi cambia di diciamo ha comunque un'escursione minore lo scrivo appunto qua giusto perché così ci rimane quindi ripple a frequenza doppia profondità la metà uguale più facile da filtrare tipicamente non si aggiunge un filtro ad hoc c'è quella capacità d'uscita che un po' fa da filtro ma l'effetto principale viene ottenuto sfruttando come dire l'inerzia stessa del motore va bene questo particolare tipo di convertitore vedrete ci tornerà utile perché è quello che useremo per fare controllo di motori in continua quindi particolarmente adoperato e interessante per noi da considerare d'accordo ci fermiamo qua e facciamo una pausa di 10 minuti e poi ripeteremo